tutti quanti corsi però c'è un ottavo curriculum che ti permette di fare tutto quanto fai da te sei però vincolato a prendere tot materie da tot blocchi dato che io volevo fare biomeccanica però c'erano moltissime materie di altri corsi che mi interessavano non avrei potuto rimettere in quelle da 12 non bastavano poi ho preferito fare così e quindi mi sono fatto questo corsi studi che è davvero bello abbiamo una macchina diversa io non cazzo no rana è lo stesso perché mi hai fatto interrompere mi sembrava fatta diversa ok praticamente mi sono fatto tutto il piano di studi e ero comunque vincolato però il vincolo è veramente minimo perché ad esempio ti dicono devi prendere una materia da questo qua una materia da questo qua una materia da questo qua per un totale di massimo 21 crediti e ciao di realtà se sfora vivo comunque non è un problema ma ti dicevi a cazzo vedi c'è questa materia qua e quindi se voglio avere solamente quella materia c'è insomma da registrare in quel modo in realtà no perché più corsi hanno la stessa materia quindi comunque riuscivi a giocartela bene in quel modo c'è la buona parla con me lore che loro parlano di robe brutte parla con me lore il problema sai qual è che hanno fatto completamente male gli orari me lo diceva anche un amico che ha seguito l'anno scorso il primo anno e gli orari del primo anno sono completamente fa capace io considera che un giorno quattro ore della stessa lezione della stesso corso la mattina quattro ore di pausa e quattro ore di un altro corso sempre proprio dello stesso corso il pomeriggio perché non so come mi sia venuto in mente e il secondo semestre il secondo semestre il venerdì mattina o cinque ore di medical robotics 5 ore di medical robotics un cazzo posso avere cinque ore di medical robotics ma che fino al primo settembre tra l'altro ancora non sono usciti i rari veri e propri che si sono quelli dell'anno scorso ma di solito restano vado ma belle cinque ore di fila vero un amore brava ma se sarò brava devo fare io ma io all'indietro in medical robotics l'ho scelta apposta perché molto figa praticamente fai tutti quanti i robottini che vanno a soppiantare i chirurghi o comunque alcune parti del lavoro dei chirurghi le cose un po più più fini non so cosa io abbia fatto ma l'ho fatto no importa e invece c'è marco aia mi ha spinto lo stronzo cinque ore sono davvero tante no cinque ore di fila sempre fatta anch'io non è un problema anche di più per me cinque ore della stessa materia che ti vanno a sfiancare infatti uscirò morto la cosa più brutta è che probabilmente sarà con obbligo di ho provato non ci sarà più la dad eh no marco eh ma la dad era davvero tanto comoda bravo ciao mel ciao mel anche perché scammano scammano sempre le pause si ma cinque ore le devono fare per forza le pause hanno dato vittoria a tavolino yeee sono un regista e assaltatore yeee allora eh senti mel mi mancano un po' le partite insieme a te dove facciamo cacare te lo dico marco è troppo pro ma magari troppo pro guarda non ne sono così sicuro mel ma veramente no cioè considera considera che ad aprile senza vaccini ancora per i ragazzi almeno abbiamo fatto le lezioni a metà cioè metà è vero la settimana alterna la settimana andavano chi aveva la matricola con i numeri che finivano da 00 a 49 e la settimana dopo chi c'era da 50 a 99 quindi sicuramente questo non sarà quella cosa quello che spero è che lo dicano in tempo perché ancora non si sa nulla e non tanto per me ma quanto per chi c'ha le chi è fuori sede prendi Michela ad esempio lei è fuori sede no ho sbagliato no l'hai fatto bene invece ok eh ho fatto io da me penso che mantengo lezioni sempre senza la distanza perché non la vuole vabbè ma lezioni con l'obbligo l'obbligo di frequenza è un'altra cosa oddio cosa cazzo ho fatto non c'entra niente con distanza o in frequenza no run questo è un problema no di pochissimo sorry me l'accendi rocket no so pri non mi puoi fregare la partner ok solo non classificate come ho capito ah ho obbligo di presenza non ho obbligo di frequenza scusate mi avevo detto male vado ma se fanno così io me ne sto tranquillamente a casa perché porca te andrei fino voi considerate che devo farmi un'ora e mezza di trammetro e treno per andare a Colosseo bravo nord è un viaggio mi hanno esploso ma cosa non ti guardi se ranco con Mel allora guarda che sopra è bravo bravo ci ho giocato prima vai ma anche Mel è brava deve solo non laggare come la merda no no run sopra è bravo mi dispiace per Mel però sopra è bravo ma guarda che anche noi siamo brave o cosa vuoi naranzo oppure platino ok no allora non siamo così bravi ma ci arriveremo Mel non sono sicura però nonostante essere del cazzo non vado a riseguire oh no Eila ma perché sono una persona triste anche perché quanto ha scritto sia Pingu che Mel no no da quello che dicono lo scorso semestre vogliono tenere le lezioni anche a distanza perché non so se le ore potranno comunque aspettare durante gli studenti proprio la magistrale è diversa sono sempre in pochi e poi la dad comoda un pochi di scatole quando c'è l'alternanza c'è una persona che si è andata per motivi sì ma ma questo qui è cioè il liceo non è l'università Mel ma sai ci fosse stata la dad quando andavo io all'università mamma mia porca vacca eh per te sarebbe solo molto comodo in effetti allora facciamo schifo scusate non gioco cioè la dad ma è la fidata che quando devi farti un'ora e mezzo per andare a frequentare le lezioni all'università la dad è la cosa più comoda del mondo anche per gli esami cioè cazzo non doverti fare la mattina dell'esame un'ora e mezzo in preda all'ansia di col treno di non cazzo arrivare in tempo sì tra l'altro una volta sono riuscito a fare un esame perché era esplosa la metro a Roma io io sto guardando vabbè come ti cosa vuoi no 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 io parlavo solamente per l'università poi cioè capisco che dice che dal liceo cioè nel senso è utile comunque è utile prendiamo chiaro io penso che chi ha fatto che ha fatto la dad al liceo senza generalizzare ma comunque penso che non si sia fatto un cazzo per gli studenti ma neanche alle medie no 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 sì vabbè intendo non all'università perché all'università c'è il l'ansia di perseguire per forza perché cazzo ci sono gli esami aiuto alle ciò che cazzo se ne frega davvero pingu da me solamente quella di fisica tecnica l'ultimo esame che ho dato è stato veramente un parto e mi ha veramente trattato di merda durante l'esame ah Marco che spavento Marco considerate che mi ha no mi ha rotto il cazzo per tutto il tempo della del controllo ambientale volevo ovviamente che lo facessimo collegati da telefono il controllo ambientale sì controllare come la stanza per no il controllo ambientale per l'esame da pc ma perché evito le palle vabbè quanto culo però volevo assolutamente che lo facevi da cioè volevo assolutamente che facevo questo cazzo di controllo ambientale vabbè quello è normale e vado ho voluto controllare praticamente ogni singola parte della mia camera quasi pure sotto il letto per vedere se c'era qualcuno che ansia poi dopo mi ha fatto esce dalla chiamata io ho spento direttamente proprio il telefono del tutto però non so perché non ero uscito dalla chiamata con il telefono guarda l'accessorio devi uscire dalla chiamata però sono uscito però sono uscito eh a me sembra di no guarda tu stesso le faccio vedere che premiamo il tasto dell'accensione del telefono e che il telefono non si accendeva ma io non ti credo che lo stai premendo quindi dagli che dovevi accendere il telefono dagli che dovevi spegnere il ragazzo mi morde le gambe consigli di sborrano cosa? no 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 Marco dimmelo che parti tu però no devi partire te eh no ti ho visto vicino eh no perché abbiamo perché abbiamo vicini proprio come posizione mi sono caccata ho detto sta a vedere io non dovevo partire aia no che hai capito Mel oggi ho detto una cosa a due people che potrebbe essere un pelino too much però ora due people non c'è quindi non può né confermare né smentire no marcolino in palo ma va bella ricordate la storia di clinica noi è il paratina che t'ha fatto eh raga o meno te ranta la ricordi la cosa di clinica il tizio che t'ha le sai sì vabbè il professore ti ha detto che mi dicono quello sì sì per chi si forse verso sta storia mamma mia mi sta asciugando la gola no merda che era successo non riuscivo a contattare questo professore per fare un esame e la ranza è deposizionata scusami e da me devi avere sempre dei dispositivi di ticor no da me devi avere ma solamente alcuni professori più stronzi lo fanno e la web che riprende te e il telefono che riprende la porta chiusa mamma mia oddio che cacchio di bravo marco che cacchio di sto avendo un sacco di allucinazioni in sto periodo mel chissà come mai eh è mel benvenuta io non ma perché non dorme mel no mel non è il problema non è che non dorme il problema è che non mangia mel perché non mangi scusami decentemente perché lo fa perché dice che non riesce ad andare da nutrizionista e quindi si inventa le cose ma sei stupida o stupida scusami le tira una testata ma poveri cosa che pure magra mel scusami no marco ma non lo so cosa ah pensavo che non era magra mel ma è la schifo ne ho in mente devo decidere di cosa sono qui sono qui eh no sto partendo male marco non mi hai visto il ho capito mel porca mignotta se t'ho visto in foto non sei grassa insomma che cazzo vuol dire ma poi cosa vuol dire ma anche la fossi e volessi metterti a dieta non è non mangiare il modo di fare dieta merano marco mello una persona che che era così era la mia ex che poi è finita in una in un ospedale perché era perché era un onoressica e l'hanno dovuto infilare il cibo a forza con con il catetere non con il catetere con la flebbo dove siamo nelle torture degli anni venti per le soffraggente per le soffraggette pensavo di averla messa dentro e invece non ha aspetta mel adesso ti leggo impassibile stavo guardando la penultima live di dark souls 2 di sabaco e sardonia e c'era porca miseria un tipo che aveva messo il segno di evocazione e si chiamava nonna papera 666 mi ha fatto tanto ridere sei l'amico che vorrei 666 e io direi di no marco sono vaffanculo sei esploso? no hai esploso vai run run chiudi 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 no run chiudi non vuol dire sbatti contro il palo allora mi emoziona vai segna va bene no segna adesso mo non esagerare l'ho buttata di là ma perché la gente vola io non so volare vai run vola guarda ma questo è insalto è insalto pure brutto allora tratta bene no no le mie orecchie comunque no l'ho accabata di non mangiare l'ho fatta da per due ore e poi c'era il cibo comunque no oggi ho cenato e ho sentito di pranzare ma come può una persona dimenticarsi di pranzare ma che cazzo vuol dire il problema è che poi ha mangiato questa cosa alle sette questa cosa che vuol dire ha mangiato questa cosa ah ma pensavo che è Massimello questa cosa ah no povera ciao piolo conciuno ciao piolo conci mi raccomando leggi le regole non ti prego di pararla ma che stai facendo ma che stai facendo spiderman sono fuori sorry te lo giuro cosa che hai mangiato o che te lo sei dimenticata no te lo giuro che si è dimenticata vado a prendere la palla eh brava scusate ragazzi ho ruttato non ci pensavo non sono più abitato a stare in live no lo drago no cos'è che fai scusami lo drago ok la faccio diventare una drag queen belle drag queen ma ramma che cazzo combini perché è mica gliele messa ah ma io volevo ai io volevo volevo toglierla in realtà non avrebbe tutti i torti randai cosa dimenticarsi di pranzare no non c'è qua allora cioè che poi mel te sei come me no cioè te sei una a cui piace mangiare come cazzo può dimenticarti di pranzare cioè io sono un pranzo in trinagonia no senza turbo faccio ben poco là ok sono tornata allora c'ero stavolta oh ti fidi non fai bene non fidarti eh niente no questa non la so prendere questa non la so ok fuori ecco sono stata al pc tutto il giorno e non posso leggere oh cazzo pensavo che lui ci andasse invece non c'è andato sono stata al pc tutto il giorno è buono l'ho sentito la prima mi sono dimenticata ciao muffins anche perché non avevo sbagliato ho detto ciao muffins perché si è attivato google chi ti vuole google mel se non hai voglia di cucinare butti comunque un po' d'acqua sulla pentola cioè butti la pasta e mi ci metti in filo d'olio ed è risolto io l'avevo presa sono una persona molto triste cioè a me piattere pasta all'olio sono contentissimo è buonissimo ma perché le prendete erano perché è buona no io c'avevo con chi prende le palle non con la pasta al blolio al blolio al blob no che schifo la pasta con la gelatina ma guardate che sappia gol perché stava leggendo la chat questo è on you on you il tizio dei b1a4 celeberri un gruppo coreano cosa vuoi mamma mia ralma come cazzo è fatta mi intera porta oh no insomma ho riuscito a fare l'half flip che imbrazzo quindi non rompere a me ma l'half flip è una cosa difficile che vuoi e arrivo non arrivo vabbè ma volate a voi piace vincere ragazzi ma che sto facendo non sono proprio distratto ognuno è anche devi stare bene comunque bisogna mangiare tre volte al giorno no in realtà bisogna mangiare più di tre volte al giorno ognuno è anche degli cine shiny cine non può aver sentito i big bang non l'ho fatto lo sentito io ho sette anni ma si l'avrei sentito sicuro boom shakalaka l'avrei sentito mai sentito parlare di una cosa simile si però era una tele capire che io ascolto tutt'altra musica mamma ma in tv era mainstream un po' l'ascolto e vediamo no la tv la guardavo ho smesso da poco di vederla cioè relativamente era poco tipo sei anni io mi sposto e ti sposti se può andare via è diverso non ti vedevo e avevo paura dici nel dubbio vado nella porta avversaria allora non è vero oh mio dio questa è la fine run arti home com'è si ben ritrovati in realtà ci sono oggi poi mi riassento fino a venerdì io ci dovrei essere abbastanza mamma mia mi sa che se non c'è nessuno sarà una settimana only run only run only run no non è vero non farei tutta la settimana only run only run only run only run l'ho zata però marco apprezzalo sforzo un run io non l'ho visto mi dispiace io ti odio me ne vi su telegram cosa mi vi su telegram invece non so che si sono rimaste spice girls vabbè ma loro non sono coreani come no come si backseat boys coreanissimi veramente ti ripronta per ammordere un attimo l'ho getto ho la palla aspetta apro la palla ho le jet ho la palla io ho una palla d'aprile mi sa ah no ho la loretta my doctor cos'è gli atets fanno come back a settembre io avevo capito gli hey kids no gli stray kids non gli atets apro allora gli atets non so minimamente che siano ma che cosa brutta parapapapapa parapapapapa parapapapa pappap eccomi ma io se cose da giovani zoomer non li vogliono ma non è roba giovane carolore No, no, no 13 anni fa È roba vecchia ma che ascolta solamente una nicchia più nicchia Ora è meno nicchia Però è sempre nicchia Penso sia più nicchia quello che ascolto io Della musica coreana Ormai sì Che cazzo si è l'incola più il power metal Ah no Certo Però l'ho demolito uno Che belli quando abbiamo la roba Ma perché mi ha inculato il turbo Oh, oh Aspetta Miau Ha detto miau ragazzi Ho detto Dai, dai Ma io Non so cosa ho visto Sei troppo adulto e alfa per i kpop Mel svenirò Svenirò Mel Madonna che dolore Mel Mamma mia Stavo cercando di capire se fosse il mio cervello sbagliato No Nooo Ho saltato male Cosa sono questi rimpalli Ma Me le be' orrendo Cioè Anche a scriverlo Deve sono arti male Io sono qua No Sono in senso Paura Sei in tempura Sono in tempura Sono in tempura Cazzo hai detto Marco Cazzi Amari Per diabetici Ambrogio Ok È un mio amico diabetico Vai Ambrogio Ragazzi oggi ho scoperto Un nome terribile Mi dispiace per chiunque lo porti Ma io penso che lo porta solamente una persona sola Che era Un attimo ci devo pensare Perché era Jill Nardo Mi hanno esploso Marco No No Lorenzo è bello A noi comunque Per chiama mio figlio Lorenzo Ma Jill Nardo ragazzi Allora Qua Non ho più rimesso BTTV Quindi vedrete che scrivi What blink Pepo G È veramente orrendo E io vedo sempre così Sul Sul telefono No Perché io Ho Mezzo aggiornato OBS Carl No Come si chiamava OBS Carl Oddio Non mi ricordo No Sono troppo male John era Locke Quindi Ma Locke Quello di Lost Oh Cristo Non ho mai visto Lost Mi dispiace Ma in realtà Aia Ma in realtà no Io sono felice così Molto bella Lost Mi è piaciuto anche il fine On Finale Ma hanno detto di no Che invece il finale è bruttino Vabbè Run Nel senso di una cosa soggettiva Alla fine Anche allora al finale Di Scrubs E di Aia Scrubs è finita l'ottava stagione E non mi rompete i coglioni No no Non esiste Vedi Vedi Ma avete Cioè È una cosa che mi sono sognato Solamente io O vogliono fare How I Met Your Father No dai Che spero di essermela sognata un giorno Che mi ero sviato Limpoli Mello non conosci Scrubs E poi come l'hai scritto Con una bistola Con Ilari Duff Adoro non me lo sono sognato Con Ilari Duff Sì Sì mi ricordo Ma perché Ma che hanno Perché Vado Vado Cioè Ilari Duff È bellissimo Quella serie Quella serie Ho capito Ma quella serie Non si era già rovinata abbastanza Da sola con il finale Volevo Certo Certo Quella hai ragione Scusami non c'era Ma poi Inizialmente Inizialmente Saramente una costatazione Non credo Non credo Sono uscito Ho fatto cazzo Toccava il cid Nooo Sono una persona molto Dai Aia Marco E' un'ora Ne eri in mezzo ai coglioni Stasera Comunque Ho visto Come sembra Il modem Nooo Ciao Artium A domani Ciao Buonanotte Piango Sono una bimba triste Vai Marco Che poi ci prendo Sempre in giro La sorella Di Michela Che lei ha 40 anni Dico sempre Che stravecchia Eh Vecchio Poi due sorella Mi dispiace Ma Allora Sì 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 I 30 e 40 Sono vecchi Eh Quando ci arriverai Soppresso Se ci arriverai Guarda Una volta Pensavo che I 25 anni Lo fossero Ma scoppi Vabbè Runnero bambino Michia A tre Eh sì A tre anni A sei anni Diciamo Michia Quando avrò 18 anni Andrò a vivere da solo E invece Invece Mi sono passati Così dieci Da No Quella sono io Vado un attimo a bere Aspettate Capiteranno Sì vai a bere Ok Ciao È stato un piacere Tesoro È stato un piacere Sì però Se lui va a bere Come facciamo Faccio pronto Lo stesso Vai Io faccio pronto Comunque Lo diciamo tutti Lo dico anche io Anche se non Se so che non succederà Che cosa Che sono vecchi Comunque Lore Io te la presenterei Anche Non fosse sposata Con due figli Oh no È partita la partita Ti sei Ti sei spostata Ai due figli Che hai detto No Non hai capito un cazzo Ho detto No scusate Mi ce l'ho abituata Rego Scusate Dicevo Che Lore dice Però se sorella E mica me le presentate Io le la presenterei pure Ma No è quasi sposata È incinta poi Ah la È quella di Michela Dicevo No no Non Michela No la sorella Di Michela Quella di Michela Ho detto Perché pensavo Parlassi di mia sorella All'inizio Ma chi la conosce Vabbè ma lo sai Che ho dei nipoti No hai Delle figlie Smentila Ragazzi Abbi mi ha fatto Il regalo di compleanno Lo picchio Lo picchio Ma come già Non mancano nove giorni Sì Nel Oto Mel per compleanno Ti farò Una mia gigantografia Oh no Mel Scappa E chiama la polizia E potrei usare Il pipo Come appendi abiti Ma no Grazie Non c'ero Scusami Non ci sono Quando Marco Me le serve Su un piatto Darnia Marco ti denuncio Mello guarda Ventre me Ci sa Che carino E' uscito E' uscito Il regalo Ora sono curioso Così non glielo regalo io Che mi manfi Oggi Mel Non ce la fa A parte che Svenirò Non si batte Aia Io però Sono triste Perché mi lancio Ma loro vincono Milaos Milaos Scusa Bart Lo conosco Cosa conosci Milaos Eh spero di sì Au Contro il muso No Devo fare la cacca Porca miseria Cosa Eh sì Aia Mi hanno esploso Vai Meran Non sono Mel Porca Avessi saltato In tempo No Strina No Aspetta Mel Adesso la go per bene E' la tipo che devi realizzare Il disegno del volantere Solo non lo ricordo Ma che cazzo sta Ma che stai dicendo Di che sta parlando Mel Sei impazzita Impazzuta Impazzita Vai run No No Loro volano più alto di me E' io più alto di loro Bravo I like this Ma io non tocca la vola No Marco non mi piace Rana Giovanni No Ilarna No E' dentro Eh sì Esulto anch'io così Quando riesco finalmente a trovarlo E' fino Cerca la mezz'ora di ricerca Poi E' dentro Vai run Oddio mio run Non hai fatto l'errore Ma io volevo mettertela un po' Strita Ma io volevo che tu la mettessi in porta Paura Ok Ok buona Ahia Ma va Tocca uno Togliti da le palle Non gli ho fatto la fotina Cos'è non gli hai fatto scusa? La fotina E' in faccia gliel'ho tirata Sorry Ma che fanno? Sono pazzi questi Sto arrivando Sono in mezzo Sono in mezzo Bravo run Ho visto che la lisciavi Marco Leggi la chat Per bene Per bene Allora Vado Stavo leggendo la chat Beh Leggi la chat Ho sempre la colpa Lo sai? Perché è colpa delle stelle E tu sei la mia stella Marco Ti proibisco di ridere Delle mie Traverse Dei miei pali Tanna Mi sto dentro la porta No no Mello scherzavo Era una battuta What blink What blink What blink Vai via Ho visto che mi hai fatto un po' il culino Ecco guarda che sono gelosa Comunque No Nabba No Aspetta Sì Nabba A parte quello No Aspetta che Mudo Sveglia Se la sono tolta Meno male No Sono salita troppo Ho sbagliato Ho sbagliato Bella Ho sbagliato io Qua Scusami No Sbagli dentro e belli fuori Mel Run Metti Ma Per far condizion Non lo metto Guarda Beh però Ho fatto punti a tre cifre Sono felice Rise above the mountains Ma siamo sempre contro gli stessi? Sì A te Perché voi non lo sapete Ma forse A me ci vedremo Quando? A settembre fine Ma perché vai in Grecia? No Lei è Ron In più verranno anche la marca E Roby Earth Ma anch'io No Ron A te non ti vogliamo Mi dispiace No Rise above the mountains Guarda che brava però Che sono Ma insomma Mi sono stallato Io ti odio E' partita una moto? Brambamana You're the one that I want You're the one that I want No Miele Bravo Mellan Mettila Mettila di chiamarmi Mell Ci devo stare Quanto è alto sopra Scusami Vai Ma vuole il tuo cercello Invece di bercello Quello Dici Oh no Un parente Io c'ho paura Marco Ma io sto dirlo di te Meno male L'hai fatto molto meglio di me Non so Eri in una posizione tutta strana Non so come cazzo C'eri finita Ma io Faccio le cose strane Ma No Repati Eh niente Ah madonna So Perché cazzo sei Scusami Abete No Oddio Quando fanno questi trick Tipo toccano la palla Allora Devo trattarmi male Che spavento Una piuma Pensavo fosse un ragno Mi sono un attimino Stavo per urlare Ma Mell si risponde da sola Dicendo Non capisco Se si erano io a meno Ma che cazzo vuol dire Cioè Dice a se stessa Che non capisce Se sta scritto Una cosa Si erano i conno No No Sono i così Noi vediamo solo Il tag originale Ma sai Sono le risposte Ha paura E invece Mell non si vede Mica colpa mia Mica colpa mia Se ti usci e subito A fare cose sbagliate Vai run No mi sono cacata Vado No Porca Mandarino Marco Siamo in live Live Ma qua Se non si vede Subito sbaglia Si No Speravo di E invece E' l'effetto Di un'estate intera In cui non ho fatto Un cazzo Perché non dovevo Fare un cazzo E sono diventato così Penso quando dovrei Ricominciare a studiare Per la magistrale No La prima Poi mi riprendo Tranquilli ragazzi Anche perché ho già Cominciato a vedere Un po' di Articoli per la testa Ah Sono tanti da sola Però va bene Ho apprezzato Bravo Grazie Marco Ma sei Ah no Che la Melson A me Cioè I bambini Non parlano da soli Lo fanno i pazzi Ricordati Io da bambina Parlavo un sacco Da sola Avevo un sacco Di amici immaginari Io pensavo Di parlare Con gli amici immaginari Il mio miglior amico Immaginario Era Spyro Io Ne avevo tanti E sicuramente Il mio preferito Era Goku Io per un buon periodo Avevo anche i baby Looney Toons Perché mai Eh no Perché a me Stavano simpatici I baby Eravamo anche abbastanza grandi Quando c'erano Eh Boh Io avevo tipo 8 anni Eh Beh Io ne avevo 10 Eravamo grandi Per i baby Looney Toons Senti Senti Guardavo le wings A quell'età Ma le wings Sono belle Ma ci siamo fermati Tutti sulla palla Però andassi te Salve tutti quanti Divertiamoci un po' Ai baby Looney Toons Non si può dire Di no E vedi che Vedi che te lo guarda Bianchetto Allora cosa vuoi Ma io lo guardavo Ma non avevo gli amici Immaginari I baby Looney Toons Ma io ero Un imbecille Lo sono tutt'ora No L'avevo parata Andiamo E gridiamo URA Siamo proprio due idioti Pensa che Quest'estate Con Dado Luca e Ogena Abbiamo cantato Tutto ogni giorno La sigla di David Gnomo Che io neanche conoscevo Come cartone David Gnomo Amico mio Quella là Abbiamo passato Tutta l'estate A cantarla E a fare i giga chad Mentre la cantavamo I giga che? I chad Cosa vuol dire Fare i giga chad? Madonna Ma dove vi sono In questi ultimi anni? Non lo so Ma hai aperto L'internet Ogni tanto Ma cosa vuoi? Ecco I chaddoni Sono quelli tutti I tiponi Tutti muscolosi Ah ok Perché? Da cosa deriva? Non lo so Da cosa deriva Ti devo chiedere Se puoi fare una chiamata Sì perché Mella discord È un po' Culo Ma su telegram Si sente benissimo Quindi Salve tutti quanti Divertiamoci un po' Ai baby luni Tu non si può dire di no Andiamo a casa di nonnina Poi picchiare la vicina Siamo fermi Marco Ok E se no Ti chiederò gentilmente Di mettere Tu Musica K-pop Va bene No no Ti dirò Di sì Poi sicuramente Sarai in macchina mia Perché Penso che dopo Non so se ti permettermi Dormire la Roma Nel senso Andremo a sentirci Nella Ma penso insieme E dato che non pensa Che né Pippo né Giuse Abbiano una macchina Saremo con la mia Oh no Scusami No Run Tranquilla Stavo Fuso in partita Io stavo leggendo Vedendo delle robe carine Animali Vabbè Si si può fare Però sono lamentati Non anche gli altri Dio che non c'è soldi Per farla a tutti Vai Vi porto Vi porto La dinzu La miglior Suscere di Roma Secondo me Oh Oh Marco Hai visto Marco Mi rendi molto triste Scusami Non ci ho fatto caso Ti odio Ho visto questo Se ti interessa Ti odio Ma perché c'è Allora Se le cose le fai fatte bene È giusto che tu le faccia fatte bene Quindi neanche le vedo Perché è giusto così Se le sbagli Però non è giusto E quindi Tipo questa Perché anche io Però lui muore E quindi segna lui Oh no Figo Offrite qualcosa anche a me Io vorrei rispondere a cosa Che mi andrei sempre in prigione Mel ma sei pazza? Mel ma ti pare? Vai Vai Non si dicono queste cose Anche perché secondo me Poi a buone C'ha un pesce enorme Scusami Marco Non ero posizionato Che hai detto? Ma ti pare parlare Dei pesci altrui Mettila dentro Marco dove sei? Eh run Se devo tornare Visto che ti avevi liscia da prima Mi sono caccata Io ti rinuncio la polizia di Tiano Marina Ma che cazzo sta da fa? Stai copulando Bella run Dai mi ha dato pure l'assist Ciao Simfi Ciao Simfi Siamo più o meno tornati Dopo l'estate Ora controllo Dov'è il pesce Come? Vado David Gnomo Amico mio Ma sai che Tra l'altro David Gnomo A quanto ho capito Finisce tremendamente Ma io non so neanche Di cosa parli Gnomi che vivono Nella foresta E A quanto ho capito Conoscono un'umana Una bambina Ma se ho capito bene La fine È David Gnomo Che schiatta malissimo La collina Perché è arrivata all'età E quindi muore male Ah beh Ma ciao mazzo Ma sono lo scorgito Mazzo E si David Gnomo Finisce male bene Perché male bene? Tra l'altro A cazzo Ho cercato poi su Su Spotify La sigla di David Gnomo Metal E ho trovato che effettivamente Trick or Treat Che sono una band famosa Che io ho dato Si chiamo da anni Italiana Ha fatto La cover power metal Di David Gnomo Non ho parrocchie Solo Diocesi Un cappello a punta Hai David Gnomo Amico mio David Gnomo David Amico mio Sei tu il più grande amico Che ci sia Mi sono tolta David Gnomo Muore con la compagna Le sapore non abbero Me la fanno con super tenerezza Senerità Ma no Poi vabbè ragazzi Senerità Tra l'altro Senerità Marco Senerità E senilità Oh no Vai Io mi ricordo che io sono cresciuto A pane E a Oddio come cazzo si chiamava quel cartone A il bosco Le vitre di bosco piccolo Sì Invece Eccolo Eccolo La scritta buona Appunto Il dolore di stelazione Questo non me lo ricordo È terrificante È quello dove c'era PUBG L'avventura di bosco piccolo È quello dei Prendete È un cartone francese Che faceva vedere I dolori I casini Che facevano gli umani Contro la natura Diciamo Ma era un film O era No Era un cartone Era un cartone Il trono di spade Furry version Esatto La scena dei porco spini È una delle scene Più brutte Che io Cioè Praticamente C'era questa coppietta Che Dovano attraversare L'autostrada Ottavanti gli animali E Rimaneva solamente La coppietta Di porco spini Solamente che Lui era vecchio E non ce la faceva No Rimane sotto la macchina Insieme alla compagna Che mora insieme a lui Abbracciandolo Ma no Ma che Ma perché Devono fare vedere Queste cose Ai bambini Cioè io ci sono cresciuto Con questo cartone C'era una scena Io su Rai 2 Sì 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 Assolutamente Io su Rai 2 Ho guardato Astano Nadia Nadia Copperfield Guardavo Dendo Robo Guardavo i Digiro I Digiro I Digiro I Digiro Ho messo tra Digimon e Kakarot I Digiro No È un incrocio tra i Digimon E Medaroth Che qualcuno conoscerà Spero No mi hai sentito Ah sei una brutta persona Ah no i Medaroth Cazzo quello Con il robottone giallo Sì esatto Io volevo C'era Da Toy Center C'era Lui non mi ricordo Come cazzo C'era un robottone giallo Porca troia Eh mi dispiace Non so cosa mi ha mandato Ah il wikipedia C'era il robottone di Medaroth Cazzo quanto lo volevo Eh quello era fico Porca vacca Ma com'è che abbiamo evitato Tutti le palle Ok Hai segnato Ran La serie Dinosauri No la serie Il cartone del Disney era Ti ho chiamato Io c'avevo Di Medaroth Ah mi hai sentito Io c'avevo di Medaroth Il videogioco Presa il McDonald No quello mi manca Ma dai Ho sbagliato No no Era una serie Non quella della Disney I Dinosauri No non me la ricordo Beh altre serie Che finiscono Anime che finiscono male Sicuramente Doraemon Non l'ho mai visto Finire Da quello che ho capito Nobita è in coma E se lo stai inventando tutto Proprio se ne va a vedere Se è una leggenda metropolitana È vero Ok Metropolitanchia Un po' come i Puffi Che è un sogno di cargamella Ma quello mi sa che è vero Non lo so No Uh Marco Se ti ho Ma che poi Non mi ricordi I Puffi Di che cazzo Di che razionalità sono Cioè il cartone Tutto giapponese Sì Allora No forse i Puffi Sono Francesi Sai Eh oh cazzo scusami Mamma mia Un po' come T-Turf Quanto cazzo Diovo T-Turf Era strafatto di funghi Di funghi Urori Cattiveria E stai immaginando Quanto mi immagini I matroni Oddio Che cazzo Sto sentendo Comunque No ma Lady Oscard Oscard Lady Oscard Lady Oscard Lady Oscardelli Se la non ce la posso fare Sono più Rinco del solito Bravo Marco Buttala dentro Ho già entrato Sono americani Ah ok Lady Oscard Ah un po' di mannigola Moscardelli Ok Google Di che nazionalità Sono i Puffi Mi prende la palla Sono francesi Sono francesi E tra l'altro Vi leggo il nome francese Perché è terrificante Un attimo Le Strunf Si chiamano Gli stronzi In francese Ti faccio la carcamela Che Paolo Stipi Di una mignotta Portacci Lora Ah si può essere Il nome l'ho letto In francese Però può essere Che sia in belga No Le strunf I Puffi In francese Le strunf I Puffi Eccola La scritta Poi Dal belga Ok non l'ho letto Tutte Prendete La scritta Marco Questa partita E' interminabile Arca Vai a fare il segno Per favore Vai a fare il segno Nooo Io ragazzi vi ricordo Che c'era la sigla In francese Dragon Ball Che era terrificante Non credo di averla mai Ma era andato dopo della pasta Devi vedere anche il video Nel mentre Che è tutto È un tutt'uno È come le Come le fonzis Se non ti guardi il video Mangi solamente La cacciotta Muffita Tocca Tocca Ok Vado Lady Oscar Lady Oscar Nell'azzurro Dei tuoi occhi C'è L'arcobaleno Ho fatto male Marco Oh mio dio Giovanni Pasternak E niente Hanno vinto E invece Però mi ti dà una mano Ma i ragazzi Sto vedendo solamente Gente che ragdolla Ma che devo fare Che cazzo vuol dire ragdolla Che rotola male Senza poter fare nulla A riguardo Ah sono io Nooo Tra l'altro Non mi ricordo Se era una puntata Delle avventure di bosco piccolo Mi ricordo solamente Sto cazzo De bufo Che pigliava dei topi Li buttava Li faceva Atterrare su dei rami appuntiti E li uccideva così E non mi ricordo Dove cazzo In questa scena Mi ricordo che avevo visto Più volte Per la puntata di sto cartone Nooo Marco Eh vaffan brodo Scusami Cosa erano appuntate? Era l'avventura Di bosco piccolo Ok Anche perché Considerato lo stile Aia Eh no Sono partito veramente male Io mi ricordo Che il primo anime Che abbia mai finito E' stato Monster Rancher No Monster Rancher Il pokemon Era davvero tanto lungo Monster Rancher Mamma mia E ci ho pianto Come un imbecille Della bambina Che era fino a Monster Rancher Ma neanche io Ma probabilmente Tornava nel mondo vero Lui Cosa Però veramente Ci ho pianto Come un cretino Ma mai come quando Se ne va via Charizard Quando ho solamente Mandato a fare In quello Con l'imbecille Di Ash Al fine Oh scusa Marco Io mi ricordo Che l'avevo odiato Perché la doveva Abbattere free per rati Che in una puntata Che era quella Dove poi vanno a finire Nel mondo Con i pokemon giganti Che erano tantissime Delle attrazioni Nel mondo Nell'isola C'è tutto su youtube Si lo so Infatti ho sempre pensato Di rivedermelo Ma non l'ho mai rivista La puntata dove vanno Nell'isola dei giganti E dopo il naufragio Dove il naufragio Che era la puntata In cui doveva Butterfree Per un rati Kate Oh no Ok Butterfree Andava via Con la butterfree femmina Ok Sì No Perché poi L'ha ripreso Butterfree L'aveva solamente Dato via Per un rati Kate Momentaneamente Ah Questa cosa Non me la ricordo Il gufo Voleva mangiarsi Dopo inizialmente Perché l'aveva lasciato I mazzo Mi ricordo Che cazzo era successo Vieni con noi Tu puoi giocare Puoi lottare Senza Mazzo Oggi non si vede L'alert Monster ranger Vieni con noi Tu puoi giocare Puoi lottare Senza renderti mai Nel mondo Monster ranger Vieni con noi Aramazzo Scusate ragazzi Non l'avevo rimesso L'avevo tolto Perché stavo Stavo giocando Con la Cazzilla Rametilla Pronta Invece Mi sto finalmente Guardando Attack on Titan Non credo La guarderò mai Io ho letto Tutto il manga E con la Cazzilla No è che stavo Giocando con la Schede Di acquisizione Quindi non Oh scusate Oddio no Devo partire Io perdona Mi stavo Guardando Lo schermo Anch'io Stavo Guardando La foto Che ha Fatto Due Pimpo No Stavo Guardando La chat Oi Oi Mi ha Soltato La palla Mi sento Dio Quando faccio Queste cose No Marco Io te l'ho passata Bene Sì Sai che stai In culo Allora Io non sono Capace Va bene Qua ho sbagliato Io fortunatamente Loro Non ho sbagliato Pure Cosa cazzo Ho visto Sono stata Sbalzata Indietro Stai giocando Con cosa No No il manga di Attack on Titan L'ho letto tutto E ci sono stato male Tre giorni Deve tre quattro giorni Dopo il finale Ah ok No io sono Completamente fuori Dal franchise È molto bello In realtà Veramente è molto bello Non lo so Mi ispira È Molto Misterioso Come Come anime È troppo crudo Per certi versi Quello sì Ci sono Delle Delle tavole Proprio Negli ultimi Capitoli Che sono Di un Di un bello Per quanto angoscianti Ed è Il classico manga Che veramente Capisci tutto Solamente All'ultima Anzi Sì Ma in realtà Proprio all'ultimo Capisci tutto Hai esploso te Ok Gli ho alzato Vaffanculo E ho sbagliato Quindi come Deve reagire Anche allo stile Di disegno Cioè Oddio Dipende da quando Perché all'inizio No Cioè all'inizio C'era Non faccio nomi Ma c'era un personaggio Senza un braccio Ogni volta Io disegnava Il braccio diverso Staccato Era un po' Un po' scarso Poi dopo diventa Veramente Tanto Tanto sì Così Cioè che Penso che intenda Il fatto che Anche emotivamente Si rispecchia Nella tavola No Oh cacchio Oh Marco Meno male Che ti ho evitato Come la peste Che cosa cattiva Da dire comunque Oddio L'ho presa malissimo Ho notato No Vai Alla tu No Alla tu No Brava Ok Però Adesso sto leggendo Chainsaw Man L'avevo iniziato E non ho più Continuato Perché poi Sono venuti qua Dado e gli altri E devo dire Che è veramente Stupido Chainsaw Man Sì Ok Sì è vero Cioè per te Quindi Mazzo l'hai finito Posso dirti una cosa Tanto gli altri Non capiranno Non vuole spoiler Non vuole spoiler Eh no no Non è Allora io Chainsaw Man L'ho cominciato A leggere Solamente Per una tavola Che per chi la conosce Quella degli astronauti E Non capisco Come si possa arrivare A una tavola simile Da un manga del genere Che ovviamente Cazzone basta Come manga Non proprio il mio stile Però Si fa leggere Tranquillamente Voglio vedere Anche perché Per adesso C'è stato Un twist Un enorme Ciao Mello Buona partite La tavola Che dicevo Mazzo È Quella del bambino In fasce Proprio tipo Boh Terzo Ultimo capitolo Quart'ultimo Non so se l'hai capito Voi che te lo spieghi meglio Eh vabbè Che buce De fulo Pablo Lenarco Vai No 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 Non è assolutamente lui Quando c'è la La marcia Che si vedono tutti quanti Che scappano C'è una tavola in cui C'è una rupe E tutti si passano Un bambino in fascia Sopra la Eh sì Quella lì è veramente Veramente Tanto pesante Come tavola Buttare sotto il bambino No Il contrario C'è Tutti quanti cadono Da una rupe Per salvarsi Però si passano A mano a mano Un bambino in fascia Sopra la testa Per non far Per cercare Di salvarlo Il più possibile Non sai che mi mettete Così vicino alla porta Allora Bravo Non ha segnato No No Marco Così come anche La storia Del 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 bambino ladro Insomma Sempre nelle ultime Scanna Che durata tipo Mezzo secondo Vado a vedere un flashback E poi il Mamma mia Pesantissimo Ci sei rimasto Veramente di merda Lì Davvero tanto male Non te l'aspetti Proprio crudo Ma come facevi A sapere Che l'avrei tirata Lì brutto Figlio di trota Ma noi con Con l'anime Invece siamo Proprio inizio Seconda stagione Mi hanno esploso Io ce la sto guardando Con Michela Ciao moreno Bello Che l'ho L'ho convinta A guardare anime E abbiamo cominciato Con quello Poverina Ma che poverina Ma davvero Ma assolutamente Ma scusami Ma ti pare Cosa Iniziare con quello Ma si Con cosa devo fare Iniziare Scusami È bello Ha una bella trama È interessante Intriga dal primo Dal primo episodio Non mi va Cioè sinceramente Non sono di quelli Con Ah Voi cominciare a guardare Mang Gli anime Guarda Death Note Ma che due coglioni Basta Ma no Ma non Death Note Ma ci sono altre cose Se Norca No Sì grazie Sì grazie Non ho capito Ma non si in questo senso Proprio di bersa Che si Sì Ah no no È letteralmente così Guarda Adesso faccio lo screenshot E E glielo mando È letteralmente così Ma Mentre sempre da Heidi Come anime C'è l'orme mi odia Perché a cazzo Parte le urlo Stasaghi Nelle orecchie Poverina Tra l'altro Una cosa Ehm Noi abbiamo cominciato A parlarci Per Per i stessi Questi musicali Ehm Un'altra Mi ha mandato una foto Di Di ascoltare una cosa Su Spotify E ho visto Nella sua libreria Che lei aveva Una canzone Degli epica Ehm Che si chiama Crimson Bow and Arrow Che è la cover Di Ehm Gureno Yumiya Che è la La prima sigla Di attacco on titan Poverina ci sembra Farte Esatto Hai visto Sì Pai Povia Eeeh E quindi l'ho fatto Oh Ah mi vedi Ma sei l'attacco Dei giganti Invece ne ho Comunicato Ascoltato questa canzone Ehm La cover inglese Di Gli attacco Dei giganti Cioè non sapeva minimamente Che da dove uscisse fuori Pensate se la fossero inventata Loro e fine Che ci sta benissimo Perché Ehm Revo Il chitarrista Dei link Dorison Fa Cioè chitarrista One man band Dei link Dorison Fa esattamente Not Dua Lipa What Fa esattamente Lo stesso genere Degli epica C'è proprio uguale Sparato quasi Quindi A meno come sonorità Fa vento Marco Perché Perché mi sei saltato sopra Niente Volevo fare i trick Perché quando io voglio fare i trick E non fa I trick I trick I trick e tracche I trick I trick e ballacche Voleva fare ranno Allora Sono triste Salute Marco E che mi hanno portato Un formaggio buono Donna Malga E me lo sto divorando E lo stai anche ruotando Eh si Vai entra dentro Entra dentro Entra Ah me l'ha parata Far to the north To the ice And snow Ultimamente sto in fissa Con una band Si chiamano Hanno un nome di merda Ma perlì non so come Se siano usciti Con un nome così brutto E loro sono anche Abbastanza cringini Però alcune canzoni Sono fighe Si chiamano Brothers of Metal Che dico Porca gioia Ma puoi chiamare Una band Brothers of Metal Ma che è una cosa orrenda Eh fratelli del metal Eh ma è terribile Dai ma che siamo Cioè Negli anni 80 Neanche si potevi chiamare Una band così È proprio brutto E però fanno tante canzoni Sulla mitologia nordica Alcune sono davvero fighe E c'è la tipa Canterina Che ha una gran bella voce La tipa canterina Sembra il nome di un film Di serie B Sulla musica Musica E' un po' come quando E' un po' come quando E' tipo delle band Che non fanno più canzoni Band vecchie Che non fanno più canzoni Da secoli ormai Tipo ben anni 80 Ritorno nel 2020 Con una canzone Che si chiama Tipo We are the metal Capita a volte Ed è una cosa terrificante Ho sbagliato strada Scusami Ah Benì Ok Mi pare una volta Fosse successo Con i Halloween Il tipo era Il tipo non era Dua Lipa Ovvio Si sa che Dua Lipa E Super Sonic Legend Su Rocket League Vado Che cos'è che è? Il rank più alto Super Sonic Legend Si ho un nome Veramente terribile Alla pari di Brothers of Metal Quasi Non avevo Il fucking turno Ma anche loro Cioè prima stavo guardando Un loro Un loro video clip E vabbè C'è lei che quando canta Ok È abbastanza tranquilla C'è Lui che fa Delle mosse Che sono veramente Cioè sembra che Non sape davvero Cosa fare Mentre canta Io piuttosto Starei fermo Come uno stoccafisso Piuttosto che muovermi In quel modo Detto da Marco Ciorcello Quello che una volta Un concerto Capottò una cassa spia Perché? Sai che nella cassa spia Ci metti sempre Il piede sopra Ma sei un po' Coglioncello Fanno sempre Sapete che quello Quello invece del fonico L'aveva attaccata male E quindi Si è un po' Scappottata No Marco No Marco Tra l'altro Non so se lo sapete A proposito di Nani Che la nostra amica No a parte quello Che C'è una band italiana Power Metal Che si chiamano Windrose Molto famosa Che Fa tutte quante canzoni Da Da Nani Tipo Nani tipo Che ne so Tipo Tori di scudo di Quersha O Bombur Non Nani Affetti dalla malattia Ah Non è una malattia Marco Non è una malattia Come si può definire? Una Beh è una malattia alla fine No? No è una malformazione Genetica Malformazione Ginnastica Non so se si per dire Genetica Il cretino Aiuto La malattia Stavo dicendo La sveglia Non è una malattia Perché non si può guarire Giustamente E che non ho preso Un esempio Da ricerche Lei ha fatto il comeback Con i Nani Esatto Esatto In realtà Ha fatto Oltre che Un po' di culo Mazzo Ho stato Da qui Vado E I Nani E quella che ha fatto Che è andata in radio E tutto quanto In realtà Ha fatto altre canzoni Tra cui una Di una tristezza assurda Adesso non mi ricordo Come si chiama Tipo Qualcosa con i lupi e la luna E quindi O gli lupi e la luna Non mi ricordo bene Come si chiamava Ma era una canzone Di una tristezza assurda Con un testo Bellissimo Dove c'era lui Che si rendeva conto Che ormai era Prudente arrivato Alla fine della vita Adesso penso Cioè ancora in vita Però quando ha fatto Quella canzone Penso che stava In un periodo Abbastanza giù Ma che ansia Di corda E quindi c'era lui Che si Eh niente Che ormai Abbracciava il fatto Che stava per morire E la Ti giuro Che è di una tristezza L'abbiamo sentita Insieme Gli è dato Porca miseria Una botta Tipo da un anno e mezzo fa Vai Ah una botta di vita Che dici Vabbè Sto canzoni comunque Belle però Certo Che poi da Richard Benson Almeno da Richard Benson Nuovo Non te l'aspetti Ma Oh Da quello vecchio Di madre tortura Pure pure Salta E me la blocca Lo stronzo Le boss fai di Genshin Impact Ma perché E' come E' come io che volevo cercare Su Google Scholar Che è il sito Dove si prendono Tutti Gli articoli Per fare le tesi Non me ne ho illusosamente Per fare la tesi E volevo cercare La protesi Quella del guantone da baseball E la prima ricerca era Gli occhi di Harry Potter Aiutano alla vista? Che cazzo c'entra? Beh Una ricerca anche quella Ricerca Allora Una ricerca Ricerca Non dici mica ricerca Ricerca? Io dico Io dico ricerca Ricerca Ma che ricerca? No ricerca No ricerca Ragazzi come si dice? Aia Amo Amo Qualcosa Di spagnolo Te lo do io Come? Di qualcosa Di spagnolo Te lo do io Nel senso No È È un modo Di dire Te lo do io Mi hai ricordato Che quando Non so se avete letto sul gruppo Con la IQ Di ricerca Non so se avete letto Non so se avete letto sul gruppo Io Cerca una settimana fa No in realtà un po' Fa da meno Ma comunque ci ho avuto Perdendo male Vai Ma sti cazzi Ho avuto una paralisi Nel sonno Sì ho letto Mamma mia che ansia Nel Già la seconda volta che mi succede Che ansia Bruttino Sì abbastanza bruttino E Non l'hanno evitata La fortuna è che comunque C'avevo Michela accanto Perché stavo qua da me E vabbè Eh sì stavo accanto Non ce l'ho qua Sì E tra l'altro Cioè io Ce l'ho avuta mentre dormivo Non ero sveglio E Mi sentivo come qualcosa Che mi premeva sul torace Fino a stringermi sul collo Vado E mi ricordo che volevo provare A chiamare aiuto Ho sbagliato Non ho visto Volevo provare a chiamare aiuto Ma mi diceva fuori Solamente un verso strozzato E Michela si è svegliata Ha visto Ha detto che mi aveva visto Che respiravo affannosamente Proprio Così Ma ero immobile Proprio completamente immobile E Lei non sapeva neanche L'esistenza delle paralisi nel sonno Non aveva mai sentito No No Ed è strano perché lei comunque Sa molte cose A livello medico E Quindi Mi ha svegliato pensando Che fosse un incubo E ha fatto bene Perché mi sono riuscito a buonare Tutto quanto Mi giro e le faccio Oh scusami Era una paralisi nel sonno E lei che pensava Che fosse ancora Rinconnitato dal sonno E avessi sognato Chissà cosa Si è girata E E ha detto Motte paralizzo io E si è rimesso a dormire E io in realtà E io in realtà Velo solamente Un attimo di Di conforto E sono un po' Abbracciato Lei mi si è girata Così Quando io ho raccontato Il mattino C'è rimasto troppo male Le moco se lo ricordava Quando ho raccontato A sua mamma A sua sorella Quanto hanno preso in giro Oltre la paralisi Poi gli schiaffi Madonna che brutto Che è stato Cioè La prima che ho avuto Neanche mi ricordo Perché è una cosa Che notteva di merda Ma in realtà Tutto quanto Perché Abbiamo continuato a sentire I rumori Per molti giorni Come se qualcuno Toccasse la serratura E Quella sera Ci sono stati davvero Tanti 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 rumori Tant'è che stavo Veramente tanto Con l'ansia Michela diceva Rivedere una persona Qua davanti La mia porta Ma in realtà Era solamente un po' buio Quindi era la sua immaginazione Che cacchio di ansia Però E E quindi Lei ha detto Che era rimasta Un botto A cercare di addormentarsi Con l'ansia In più c'era io Che l'abbracciavo E quindi Lei Non riusciva neanche Ad alzarsi per controllare bene Se c'era effettivamente Qualcuno E Quando finalmente Si addormenta Si è beccata Io che la svegliamo Questa cazzo di paralisi Sì Avvenuta Ci ho messo In realtà poco A riaddormentarmi Perché Contro che cosa siamo Scusa Brezzaola Perché Dato che Quando ho avuto La paralisi Io dormivo a pancia in su Nella Nella mia testa Era incognita Dall'alzone Dalla paura Ho detto Adesso Il demone Che mi ha paralizzato Lo frego Dormendo di lato Mi sono messo di lato E mi sono addormentato Se invece stavo A pancia in sotto A pancia in su Sognavo subito Che c'era un demone Che prendeva una sega In soggiorno E veniva in camera Perché È perché È perché Era ancora Dall'ansia Con l'ansia Della paralisi Io di stavolta Non dormo Ti odio No Io dormo sempre A pancia in giù Proprio perché Almeno non mi ci posso Mettere niente Sulla mia pancia Cosa ho detto? Non mi ci si può mettere niente Sulla mia pancia Non mi ci si possono No io in realtà La mia posizione Per addormentarmi D'estate È Posizione fetale Con il cusino In mezzo alle gambe E lo tengo Tra le gambe E le braccia E dormo con la testa Proprio sul madrasso Poi però mi sposto E mi ritrovo Mai a pancia in sotto Proprio mai nella vita Anche perché Fa pure male alla schiena Eh lo so Sono una brutta persona Ma io dormo sempre A pancia in sotto E poi dormo Praticamente Tutta sul cuscino Ma quello è un dettaglio Io invece sono messo Solamente una volta A pancia in sotto Cioè oddio Più di una volta probabilmente Però che io ricordo Ho dormito un'intera notte A pancia in sotto Tre settimane fa Perché ero andato A prendere il sole Per la prima volta Quest'anno E L'avevo preso Per troppo tempo Quindi mi ero Veramente Suonato malissimo Ora Ora no Ora sono Del mio Nero classico D'estate Che in pochi Hanno visto Ma diventa Tanto nero E Ma io quella notte Per il dolore Che avevo alla schiena Dovevo dormire Col cuscino Sulla pancia Ma io quella notte Vado Passando il weekend Che si alternavano Michele e sua mamma A passarmi la connettivina sulla schiena Sono molto carino Non credo Né per loro né per te No loro in realtà Cioè per loro La mamma è infermiera Per me è stato brutto Sia per il fatto di Che soffrivo tantissimo Sulla schiena Sia per il fatto che sono dovuto stare Quei tre giorni che sono stato con loro Senza maglietta E' stato molto imbarazzante Perché? Eh perché non potevo stare con la maglietta Cioè ero così tantustinato che qualsiasi maglietta mi dava fastidio Anche quelle di cotone leggero Ma perché era imbarazzante? E vabbè mi imbarazzava Avranno visto Petti nudi a go go Ma certo che avranno visto petti nudi a go go Ma ce neanchebbe pure Però comunque mi imbarazzava Ho tanti vestiti Ho il coglione In Senza maglia Vabbè che quando sto con loro Sto a tre giorni con la stessa Con la stessa cosa addosso No Perché? Eh perché sto sempre col pigiama Minchia Marco Sei veramente lo spaticato Ma non solo io Praticamente tutti L'unico che non ci stanno Sono la sorella E il compagno Perché vengono Non stanno là Il compagno della madre O il compagno della sorella? No no Il compagno della sorella No anche Effettivamente anche Il papà di Michela Non si mette mai in pigiama Sta sempre con le canottiere Sto a larghe Pianco Oh no Che sede? Sto laggando Ok Vai land Au Oh che cacchi nudi Che ci sono oggi al mare No Che palle Quando mi legate le palle Se state adatto Ho detto una cosa stupidissima Mi ha fatto un sacco ridire Non aveva veramente senso Stavo attaccando Il Joy-Con della Switch Al Al cosino Che serve per non farlo cadere Quello che ti lega il braccio E Mentre lo legava Chi è scivolato E è cascato per terra E ha urlato Nonno morto Io non so per quale motivo Ma mi ha fatto veramente Ridere tantissimo Ma poi l'ha urlato Tipo Anche non arriva Ma che culo Anche non arriva abbastanza tardo Ha urlato Nonno morto Oh no Vado Vai Un cappello a punta Hai David gnomo Amico mio E Nel bosco Stai David gnomo Amico mio Ma perché Hai lisciato la palla Io veramente liscio Come Come il ballo Un tomani Un tomani Un tomorro Aia mi hanno esploso Ah ah mi esplode David gnodo Mi c'era la stessa Non ce la fa Vai David gnomo David gnomo David gnomo David amico mio No Evviva Sei del più grande amico Che ci sia Aveva preso Un cazzo di cazzo di cazzo Eh Era mai 60 punti Cosa vuoi Cosa vuoi Marco Cosa vuoi Nella mia vita Siete Sarete tutti Super champion Super platino Magari Sono champion E basta Super platino Che cazzo è A parte ragazzi Che vabbè E' cominciato Una nuova season E gli ho dato Presidio All'euforia Non vi abbiamo portato Le rancate Della nuova season In live Perché l'abbiamo fatta E qua a casa insieme Ma io Non so cosa hanno fatto Ma hanno rotto Completamente i rocket Secondo me Si sono sbagliati Fortissimo Ma hanno reso visibile Il rank Da subito E a noi Ci hanno abbassato Due rank C'è da champion Che eravamo Siamo usciti A diamanti due Ma da te è tornato champion E tra poco Ci torno anch'io Anche voi eravamo E siete tornati Diamante due No Crepino Eravamo oro Due E siamo No 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 eravamo oro E basta E ci ha lasciato oro Poi siamo scesi Da sole E vabbè Ma che è un'altra cosa No Noi Non so come cazzo È possibile Ma Ci ha fatto partire Veramente da troppo In basso Eh Renditi conto Ero comunque oro Faccio caccare Vabbè Ma oro è veramente Basso Come rank Vabbè C'è C'è una differenza di skill Tra oro e platino assurda Non l'avrei mai detto Possiamo fare cadere Staccazzo di palla Oh Dici come se stessimo vincendo No No Lo dico perché voglio finire Questo strazio Ultima partita Ultima Partita Gioca la partita Mangia la manita Questa è la tua vita Cavoletto Mangia la tua fibra Mangia la tua fibra Io non vedrò che venga l'estate Le sei l'estate C'è Marco l'inverno Perché ho voglia Di passi a fagioli E passi a ceci Ma perché Perché le adoro No Io no Minchia Pasta guanciale ceci Minchia Mi ci farei il bagno No Io non voglio l'inverno Quindi va bene così Io sono freddolosissimo Però la cosa bella È che A meno di nuove chiusure Questo inverno torno a sciare Io Non lo so Scusate ragazzi Mi sono messo sdreghato E non sto giocando bene Ehi David David Nudo Uno spinto David Amico Mio Sei il più grande amico Che ci sia No Che paura Run Porca Mi sono assicuro Facendo evitare Mi stavo cercando Di non prenderla Mi avevo paura Di metterla dentro Porti sempre L'allegria Piripiri 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 E vabbè Mi piace un sacco La base Piripiri Piripiri Vabbè Bella musica celtica Ignorante Piripiri 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 Beh Per un anime Mica male E chi ha detto Niente Musica celtica Ignorante Fine Pensavo Pensavo fosse Un Piripiri A me piace un sacco La musica Io l'ascolto Praticamente Solo musica celtica Cioè in realtà Cioè in realtà Non è celtica È solamente folk Quella Scusate Scusate Non ci sono Insomma Ve l'ho detto Non sono neanche più abitato A stare su discord Ormai Quindi Tutto un mondo nuovo Cos'è questo cosa Che è un microfono Sassa Vedde Sassa Vedde Oh mio zio L'ho capito adesso No Ci ho provato Eh sì Ti avevo pure visto bene I tried So Harudo No Carina di questo Colore Questa esplosione È diventato Albano Vai va Felicità Un bicchiere di vino Con la Lamborghini La felicità Con un cretino La felicità Vai Landwin Grazie Tu la eviti Io sono Triste È un po' Una bruttissima Madonna Mi orecchia Tra l'altro Da settembre Devo cominciare A lavorare La tesi Marco Che c'è Oh cazzo Che è Ma non hai visto Che parata ho fatto No Scusami Io Purtroppo Se vedo che Fai una cosa Fatta bene Per me La normalità Quindi non ci penso Perché se una cosa Viene fatta bene Penso di giocare Con dado Semplicemente Quindi non No È mangiarsi un panino Al gusto carino Cosa Mangarsi un panino Al gusto carino Musa Gusto carino Magari Ah Chianti Fracci Ragazzi Non ci sono Rente Quello da adesso Anche loro Ma si chiamano Meme Che tristezza No Uno solo È del clan Meme Ma guardate Che sfiga No Schizze Ha segnalato Donna ranna Sì 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 Vado a prenderla Mi concentro ragazzi L'ultima si vince L'hai detto Ok Vai run Tutta tua Aia Se minchi Aspettano Però Lo sai che deve vincere Vabbè Ancora il suo amico Ma 36 secondi Dalla fine Porca Vai 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 Ranzi fa la passeggiata panoramica Praticamente Neanche Neanche usa L'acceleratore Io vado a prenderli Così Poi mi dite che sono sempre senza turbo Capito ma se deve andare verso la palla Usalo il turbo Non fare la passeggiatina Vai Vedi che lo uso Ma poi Vedi poi rimango senza E Vabbè Ramel Cioè Puoi anche andarla a riprendere Non è che succede qualcosa Se rimani senza Guarda qua Ma io non ho parole Marco Cercello Ma sì che win Ambo la buona Guarda che fighe Siamo È arrivato mio padre Qui Ciao Ram Uomo Quindi se sentite scorreggiare Mi spiace Vivo che essere stato io Ok Perfetto Vai Marco Scusa Hai capito benissimo Lore Non serve altra spiegazione No Uh cacchio Cazzo Oh pazza Inea Di far l'amore Con lui Pensando Nora non mi andare addosso Ti prego No ti hai evitato No mi hai evitato in pieno Ma vai sulla palla No c'ho l'ansia Oh Ma non posso far tutto io Ok Allora Io dammi i miei tempi Vai l'ansia No No Aia Seminiamo Ora segno No E niente Cavolicchio Mem Mem Vittoria Arancione Abbiamo visto Carina la macchina Digiman 17 Amici sono molto amareggiato Anch'io Allora Ragazzi Noi vi ringrazio Noi vi ringraziamo per essere passati Per essere tornati Eh 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 Per aver fatto parte del ritorno Mio Almeno In live Ma solamente per oggi Poi ritorno a fine settimana Andiamo Andiamo Tutti Quanti Salute Crosta Dai Ma come no Sì Sì Crosta O Crosta La fine fine Amici Grazie ancora per essere passati Noi ci diamo Mani Non lo so Guardate Grazie mille corgini Sicuro il bot l'ha pronunciato male Ecco Lo sapevo Ciao ragazzi Ciao belli